Il 5 maggio del 1956 veniva inaugurata a San Giovanni Rotondo la Casa Sollievo della Sofferenza, una giornata storica che a distanza di 64 anni e in questo particolare momento storico assume un significato ancora più forte. Siamo collegati via Skype con il segretario generale dei gruppi di preghiera Fra Luciano Lotti. Ciao, pace bene e bentrovato. Pace bene a tutti, buon pomeriggio. Allora, domani saranno 64 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, padre Luciano. È un momento importante proprio in questa situazione che stiamo vivendo, per cui vogliamo celebrare l'anniversario dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, ma anche la fondazione dei gruppi di preghiera di Parepio, anche se non sono avvenuti precisamente in questa data. Lo facciamo attraverso la celebrazione eucaristica delle 18, presieduta dal direttore generale dei gruppi di preghiera, nonché arcivescovo di Manfredonia e presidente di Casa Sollievo, padre Franco Moscone, e subito dopo avremo la festa della carità. Ecco, festa della carità, secondo me questo titolo lo hai pensato tu. Di che cosa si tratta? Raccontaci di quello appunto che succederà dopo la Santa Messa, lo ricordiamo alle 18 in diretta su Padre Pio TV e Teleradio Padre Pio. La festa della carità è il titolo più bello che possiamo dare a Casa Sollievo. È carità di Dio che ha ispirato i cuori di Padre Pio, è la carità di Padre Pio, è la carità di tutti coloro che operano in quei ospedali, in modo particolare in questo periodo di epidemia, ma è anche la carità di tutti i gruppi di preghiera che seguono con il loro sostegno, con la loro solidarietà, fatta di opere buone, ma fatta anche e soprattutto di preghiera. E domani, Fra Luciano, ricorderemo anche la scomparsa del nostro caro pastore Michele Castoro, appunto che è stato alla guida dell'ospedale dei gruppi di preghiera per tanti anni. Quindi lo ricordiamo davvero, sarà ricordato immagino anche domani durante la preghiera e poi anche questo momento di festa. Sì, senz'altro ci sarà un ricordo di Monsignor Castoro che è diventato il simbolo di questa festa, cioè un simbolo che ci fa andare oltre la sofferenza e ci fa guardare veramente con speranza il nostro avvenire, così come insegnava lui. E allora ricordiamo l'appuntamento di domani, Fra Luciano, lascio a te appunto ricordarlo e soprattutto invitare tutti i componenti dei gruppi di preghiera, tutti i fedeli e devoti di Padre Pio all'appuntamento di domani, 5 maggio 2020. Ore 17.30 in Rosario, 18 Santa Messa e a seguire la festa della carità passeremo mezz'ora insieme con i protagonisti di questa storia nel ricordo del grande avvenimento dell'inaugurazione di Casa Solievo e della fondazione dei gruppi di preghiera. Pace e bene. Grazie, grazie a Fra Luciano Lotti per essere stato con noi in questo spazio dedicato all'informazione e grazie a tutti gli amici di Teleradio Padre Pio per averci seguito.